limitative per quanto riguarda la voce interiore attraverso roberta s 28 marzo 2006 santa maria delle mole a cura di vb guide bentrovati le vostre risposte sono nascoste dalle vostre menti pronte in ogni istante a parlarvi e a donarvi soluzioni efficaci per quanto riguarda la vostra autosità ma limitative per quanto riguarda il vostro essere potete in ogni istante scegliere chi essere e quale parte di voi seguire dunque non chiedete a noi le risposte a quelle domande a cui già avete dato delle risposte noi non stiamo qui a ricordarvi quello che già sapete quello che avete deciso tentiamo di darvi degli spunti di riflessione di portarvi su una strada che non è fatta di quei fiori che conoscete che immaginate ora ma che è fatta di soluzione fatte di luce e dunque diverse da quelle che fino adesso avete conosciuto le vostre menti sono abili a rinchiudersi in circuiti già programmati dovete far sì che quei circuiti vadano ad intraprendere strade diverse e che le vostre menti siano più ampie e riescono a guardare oltre non vi stiamo rimproverando di nulla vi stiamo incitando ad essere chi siete ad essere voi stessi a prendere il dominio del vostro essere e da smettere di essere chiusi in quelle limitazioni che vi sono state affibbiate da chi prima di voi ha avuto gli stessi limiti è tempo che apriate le porte per tutto ciò che non conoscete dovete svegliarvi a quel mondo che vi appartiene già da tempo non possiamo dirvi di più non possiamo darvi di più perché le nostre parole non sono parole fatte per aiutare le vostre menti a capire a comprendere perché dovete fare certe cose perché invece non dovete farle perché il senso del dovere vi appartiene come la suola delle vostre scarpe è limitata al tempo in cui voi siete qui non ha nulla a che fare con la verità divina del vostro essere andate oltre i vostri sguardi andate oltre i vostri pensieri e le vostre soluzioni accorgetevi anzi di non avere quei problemi a cui credete di dover dare delle soluzioni restate impantanati in questioni che hanno ben poca importanza e trascurate quell'aspetto che invece andrebbe coltivato di voi del vostro essere trascurate di donare ai vostri fratelli quella serenità e quegli sguardi d'amore di cui siete capaci e trascurate anche di mettere in pratica azioni di pace e solidarietà nei confronti di chi non conosce la pace e la solidarietà in un certo senso avete la presunzione di aver raggiunto la vostra divinità ma non è così dovete andare ben oltre la vostra situazione attuale il vostro dipendere da altri da voci esterne da libri da risorse che non abitano in voi ma all'esterno vi limita più di quanto immaginiate non trascurate più i vostri vicini di casa e le vostre persone più care perché questa vostra idea dello spiritualismo intesa come un qualcosa di relegato a poche persone degne del vostro essere e quanto di meno lodevole possiate avere in voi imparate che siete tutti fratelli e che il vostro cammino è unico e seppure le vostre strade sono diverse e i vostri istinti le vostre riflessioni le vostre vibrazioni sono diverse la vostra totalità è unica e vi trovate in un unico globo non a caso grazie a tutti